Ho un vestito elegante che non ho mai cambiato, cammino impettito, il mio stile è invidiato, sono rimasto lo stesso da tempo remoto, ora faccio il cantante ma di solito nuoto, ho una vita da sogno e per di più finalmente, posso navigare e messaggiare illimitatamente. Sono un tipo sociale ma pur sempre animale, io canto le scale mentre salgo le scale, amo fare due cose contemporaneamente, come navigare e messaggiare illimitatamente. Ho un vestito elegante che non ho mai cambiato, cammino impettito, il mio stile è invidiato, sono rimasto lo stesso da tempo remoto, ora faccio il cantante ma di solito nuoto, ho una vita da sogno e per di più finalmente, posso navigare e messaggiare illimitatamente. Sono un tipo sociale ma pur sempre animale, io canto le scale mentre salgo le scale, amo fare due cose contemporaneamente, come navigare e messaggiare illimitatamente.